Non solo tappeti rossi per Xi Jinping, ma anche contratti da capogiro e una relazione sempre più stretta, cioè tutto quello che Washington temeva sull'asse Londra-Pechino. Il presidente cinese ha avviato una prima giornata di incontri istituzionali a partire da Buckingham Palace. Giunto di lunedì sera, Xi Jinping con la moglie è stato ospite della regina, preceduto da una nota di Stato che preannunciava l'avvio dell'epoca d'oro delle relazioni sino-britanniche. Ambizioni confermate dal ministro degli esteri britannico. Prevediamo un'evoluzione nella prossima fase della crescita economica cinese, tale per cui avranno maggior bisogno delle cose che la Gran Bretagna è capace di fare, perché c'è uno spostamento verso un'economia di servizi e una spinta all'accrescimento del consumo rispetto all'investimento in Cina. Le imprese britanniche si troveranno veramente nel loro campo e la mia ambizione è di vedere la Gran Bretagna come primo partner commerciale della Cina in Europa. Nei quattro giorni di visita, assicurato da un'instreet, si parlerà di tutto con i leader cinese, compresi i diritti umani, tema gioco-forza compresso rispetto a quello delle relazioni commerciali, se è vero che si parla di 100 miliardi di sterline in dieci anni. Grazie a tutti.